Allora signori questa grotta noi a Polignano la chiamiamo grotta testa di animale perché con un po' di immaginazione possiamo riconoscere il profilo della testa di tre diversi animali in questa grotta. Vogliamo provare a indovinarli? Aspetta, qual è? Dov'è? Adesso ve li faccio vedere, voi mi dite cosa suona. Allora signori, iniziamo di qua. Guardate questa. Bravissima. Che cos'è? Chi l'ha detto? Sembra la testa di una scimmia? Di un gorilla? Ah di gorilla? Ah si è vero. Oppure un cane? Sembra più una scimmia. E questa invece? Questa qua. C'è l'occhio, vedete? La bocca. No, tartaruga. Ha l'orecchio in verticale? Tartaruga. La tartaruga non ha l'orecchio. Orecchie? Ah un cane. Sembra un cane questo. Un cane grosso, tipo un San Bernardo. Sì. Sembra un cane San Bernardo. Vabbè. Adesso vediamo l'ultima a destra. Questa qua. Questa qua. What? Che cos'è? Questa è la barca. Però guardate signori, soltanto questa qua. Qui c'è la barca e poi la due branche c'è. È Godzilla, Godzilla. Godzilla. Sì. No, è sembrano un figione. No, neanche. No, no, è sembrano un T-rex. No, no. Alla mia una barca e bocca. Questa è la testa e questo è solo il cane. Questa è la barca e questo è solo il cane. Questa è finita. Questa è la barca? Camelio. Camelio? Oh, è un camelio. Ah, camelio, camelio. È abbastanza visibile. Sorry po, ma leggo tlambi d'o. Sì, ragazzi, come sanno? Bene, bene. Sì. Grazie. Grazie, ragazzo. Sì, ragazzo, ragazzo. Grazie, ragazzo. Grazie. Adesso, ragazzo, ragazzo, ragazzo. Adesso, ragazzo, ragazzo, ragazzo. Questa è la che va? Troppo po so metto. Ecco. Così vi riprendete ancora di più adesso. Questa è la cosa della simia. A Polignano non c'è acqua bassa. ник professionals. Grazie.